ciao ragazzi oggi vi mostro la nuova macchina del caffè da parte di cecotec il modello si chiama cumbia power express eventi barrista pro ed è la macchina del caffè che ti permette di fare il caffè come al bar direttamente a casa vostra infatti a 2.900 watt quindi che prepara ogni tipo di caffè ha anche due sistemi di riscaldamento quindi per ottenere un caffè perfetto a una migliore crema con un massimo d'aroma e infine o meno a un manometro che verifica la pressione in tempo reale quindi scopriamo subito cosa c'è all'interno qua la macchina del caffè è enorme proprio come al bar come possiamo vedere qui ci sono diversi bottoni allora vi spiego qui si va accendere la macchina questo di qua va a uscire l'acqua calda da questo tubo quindi per poter fare tisane ed è davvero bellissimo quindi possiamo fare tettisane nel momento in cui si va a riscaldare voi potete decidere tre tipi di temperatura se è un caffè migliore abbastanza forte oppure leggero dopo di che qui invece possiamo fare un caffè ed è qui invece due caffè perché grazie al braccio della macchina che è abbastanza pesante e abbiamo due misurini questo di qua per un caffè e questo di qua invece per due è davvero ottimo perché possiamo fare anche un caffè se siamo soli o se siamo un compagnone possiamo fare due alla volta mettendo il caffè qui grazie comunque anche al cucchiaio in dotazione grazie a questo strumento possiamo andare a schiacciare il caffè per fare un caffè ottimale davvero bellissimo poi qui abbiamo anche il tubo per fare il vapore del cappuccino quindi per fare la schiuma al nostro latte qui abbiamo sempre il vassoio anti goccia e poi di qua gira la macchina abbiamo qui la manovella per poter regolare appunto il vapore se vogliamo dal minimo al massimo potete vedere e invece qui sopra possiamo vedere questo aspettate che c'è lo scotch possiamo mettere da qui l'acqua che mi pare fino a un litro e set di acqua che potete aggiungere infatti c'è l'indicatore max e qui invece è il vassoio dove si vanno appoggiare le tattine al contempo le va a riscaldare davvero un'ottima bellissima macchina da parte di ceco tech che infatti ringrazio prossimo video andremo a testare questa macchina io vi ricordo qui il modello della macchina che si chiama cumbia ed è il power express 20 barrista pro vi lascio il link qui sotto così potete andarla a trovare facilmente sul sito di ceco tech e ringrazio ancora ceco tech e per questa meravigliosa macchina visto che io sono amante del caffè a trovare facilmente la macchina che si vanno appoggiare le tattine al contempo le